Allora, adesso cominciamo a vedere il primo esperimento del filmato, quello che io ho sempre citato, e cioè la radiazione del corpo nero studiata da Planck. Che cosa possiamo osservare in questo? Vedete lo spettro, quello che si chiama spettro, non è intanto che questa curva. Questa curva che cosa rappresenta? A seconda della temperatura, e questo il comando è fondamentale, la luce che un oggetto emette. La luce come viene classificata? Attraverso un parametro che vedremo poi più esattamente nelle prossime lezioni di teoria, e cioè la lunghezza d'onda, che si trova appunto sull'asse X. Vedete, questi numeri rappresentano il parametro della lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda classifica il tipo di luce. Sull'asse delle Y, invece, abbiamo l'intensità. L'intensità che cosa vuol dire? La quantità di luce che un oggetto emette. Prima osservazione. Questo, lo spettro della luce, lo spettro del corpo nero è uno spettro continuo. Infatti vedete che una curva continua. Esaminiamo i comandi. Abbiamo la temperatura, e infatti vedete, la temperatura fa l'alto, si può cambiare attraverso il cursore, e leggete qua sotto il valore della temperatura. Partiamo da un valore di circa 3.000 gradi, e arriviamo a un valore di circa 10.000 gradi. E, a seconda della temperatura, lo spettro, cioè la luce emessa, cambia. La luce emessa si divide in tre tipi di luce. Abbiamo la luce ultravioletta, la luce visibile, su cui torniamo con una seconda simulazione, e la luce cosiddetta infrarossa. L'energia cambia, e maggiore la luce ultravioletta, più a bassa sarà l'energia della luce associata all'energia della luce visibile, più bassa ancora l'energia associata alla luce infrarossa. Che cosa possiamo dire? Su questo spettro vedete che, a seconda della temperatura, cambia il tipo di luce che viene emessa. In realtà non tutti i tipi di luce, non viene emessa un unico tipo di luce. Vengono emessi, per esempio, nel campo del visibile, tutti questi colori. Questi colori sommati assieme formano quella che io ho già definito parecchie volte come somma ottica, e quindi si vede un solo colore, e il colore che si vede sarà questo. Se siamo a temperatura bassa, vedete che, qual è il valore più intenso della luce? È rosso, e qui siamo intorno a un colore, diciamo, giallo-rossiccio. Aumentando la temperatura, la luce cambia intensità, e qui abbiamo questo, sarà la somma ottica un po' mediata tra l'azzurro e il rosso, vedremo questa luce bianca. Se aumentiamo ancora di più la temperatura, vedete che la luce che viene emessa di più sarà la luce azzurrina, la somma ottica sarà molto vicina alla luce azzurrina. Passiamo a un'altra simulazione, così siamo più, caratterizziamo quest'altra simulazione, ci permette di capire bene lo spettro della luce visibile. Qui avete tutti i colori della luce visibile, qui siamo sul rosso, da questa parte se continuassimo avremmo l'infrarosso che non si vede, qui siamo sul violetto, e da questa parte ci sarebbe l'ultravioletto. Se noi muoviamo il cursore, cambia questa riga, e questa riga ci specifica esattamente, vedete la lunghezza d'onda, cambiando il cursore la lunghezza d'onda esaminata cambia, e il valore della lunghezza d'onda lo leggete qui, qui sotto che cosa potete vedere? Per esteso il colore corrispondente a questa lunghezza d'onda, e qui sopra, questo si chiama spettro continuo di emissione, che cosa avete? Avete esattamente la posizione della lunghezza d'onda. Aumentiamo la lunghezza d'onda, ci spostiamo verso il rosso, vedete la lunghezza d'onda è più grande, lunghezza d'onda più piccola verde, e via dicendo. Noi, io ho già detto più di una volta, vediamo un solo colore, ma per esempio, sfruttando la diffrazione, vedete questo sia il colore della luce corrispondente al sole, temperatura corrispondente a circa 6.000 gradi, se non erro, e che cosa succede? La luce, gialla, bianca, sarebbe questa. Entra nell'atmosfera e avviene la rifrazione, che viene evidenziata appunto qua sotto. Nella rifrazione che cosa avete? La separazione delle componenti, la separazione delle varie luci che formano la somma ottica. Proviamo, vediamo che la rifrazione, se viene particolarmente accentuata, l'angolo di uscita dei vari colori cresce, qui possiamo aumentare la quantità di luce che subisce la rifrazione, vedete in questo modo che cosa avremo qua, avremo i colori dello spettro dell'arcobaleno. A questo punto vediamo la parte finale del filmato, e cioè lo spettro di Balmer, va bene? Spettro di emissione, di assorbimento dell'idrogeno. La luce emessa dall'idrogeno può cadere nel campo dell'ultravioletto oppure nel campo del visibile. La luce visibile coinvolge il livello 2 dei livelli atomici dell'atomo di idrogeno. Il livello 2 è questo. Quindi, quando è che emetterà luce l'idrogeno? Quando per esempio dal livello 3 subisce un decadimento, una disecitazione che lo porta a livello 2. Come pensava che potesse avvenire? Vedete, fra l'altro, sottolineo, vedete questo salto, vedete che questo salto è evidenziato con una freccia rossa, che rappresenta il passaggio dal livello 3 al livello 2. Il colore serve per indicare il tipo di luce che questo salto libera. Vediamo per bene come immaginava il bore che avvenisse questo. Vedete, dal livello 2 si fanno dei giri sempre più stretti fino a cadere sul livello 3 fino al livello 2. Il livello 1 non è rappresentato perché, essendo molto piccolo, praticamente su questa scala coincide con il nucleo. Non si riesce a distinguerlo dal nucleo. Se io invece partissi, notate, quindi questa luce emessa, che cosa corrisponde? Corrisponde esattamente a questa riga che trovate su questo aspetto che si chiama, appunto, emissione. Quante luci vengono emesse? Se siamo sul livello 2 e consideriamo il terzo livello, quarto, quinto e sesto, avremo esattamente i quattro colori, e i quattro colori totali di emissione, i più importanti, perché il livello 7 è molto vicino al 6, quindi non è che ci siano, sia molto distante da questa luce, il livello 7 e tutti gli altri. Allora, ricapitoliamo, quindi. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo rappresentato in questo schema quattro salti possibili, dal 3 al 2, dal 4 al 2, dal 5 al 2, dal 6 al 2, ciascun salto corrisponde a una luce emessa, i quattro tipi di luce sono rappresentati su questo aspetto. Chiaramente i quattro tipi di luce sono stati impressi su questa lastra fotografica dopo che sono passate attraverso un prisma che divideva la somma ottica, come al solito, dei colori. Qui vediamo un passaggio per volta, ma ricordatevi che i passaggi avvengono tutti contemporaneamente. Ci siamo qui concentrati nel passaggio dal 3 al 2, ma contemporaneamente avviene il passaggio dal 4 al 2, vediamo esattamente, vedete, dal 4 al 2 il salto è più grande, la luce sarà più energetica e come abbiamo visto prima, sarà spostata verso il blu. Vedete? Dal 4 al 2. Se invece fossimo sul livello 5, il salto continua ad essere sempre più grande, siamo ancora più spostati verso il blu, idem, sul 6. Vedete? Il passaggio dal 6 al 2 si immagina che avvenga nel modo che è appunto rappresentato in questa parte dell'ospetto. Oltre ad avere l'ospetto di emissione, si può avere l'ospetto di assorbimento. Nell'ospetto di assorbimento voi che cosa fate? Mandate della luce colorata, va bene? E' esattamente come questa, mandate sul campione di idrogeno della luce che possiede tutti i colori. Così. Che cosa succede allora? Vedete che automaticamente una parte di luce viene assorbita. Il processo è opposto a quello di prima. Prima veniva assorbito del calore e veniva liberata della luce. In questo caso che cosa succede? viene assorbita della luce e liberato del calore. Quando si diseccitano gli atomi stavolta liberano calore. Allora, quando noi abbiamo, per esempio, nell'assorbimento, il passaggio dal livello 2 al livello 3, la luce che viene assorbita corrisponde esattamente alla luce che ha questa quantità di energia. Quindi qui la luce scompare, vedete una linea nera, la linea nera che cosa rappresenta? Mancanza di luce perché appunto è stata assorbita. Perché è stata assorbita? Lo vedete bene qua. Perché è servita per eccitare l'atomo. Nello stesso modo, se io avessi, adesso avete capito, se io facessi lo spettro di assorbimento del livello 6, dal livello 2 al livello 6, cioè questo, luce violetta, compare questa luce, scompare questa luce, vedete la linea nera, questa luce è stata assorbita e quindi, ed è una luce molto energetica perché corrisponde a un salto molto alto, cioè dal livello 2, lo vedete bene, al livello 6. Se noi facessimo qua un confronto tra i due spettri di assorbimento e quelli di emissione, che cosa trovate? Vedete che nell'emissione avete le frecce che puntano dai livelli superiori al livello 2, nell'assorbimento dal livello 2 ai livelli superiori e gli spettri come sono perfettamente complementari. Nell'emissione viene emessa questa luce rossa, nell'assorbimento viene assorbita la stessa luce rossa e così vale per le altre tre righe. Questi spettri, che coinvolgono quindi il visibile, sono spettri associati alle transizioni di Balmer. Quindi, concludendo, come al solito, vediamo chi sono gli autori delle simulazioni presenti su Wolfram Demonstration Project. Abbiamo per il corpo nero questo signore, per la diffrazione che viene descritta attraverso, che avviene praticamente nell'arcobaleno quest'altro signore. Infine, la presenza dei colori dello spettro del visibile da quest'altro scienziato. scienziato e, per finire in bellezza, il sottoscritto l'ingegner Meliga per la descrizione della serie di Balmer collegata all'emissione e all'assorbimento dell'idrogeno sul secondo livello. Spero che sia stato tutto sufficientemente chiaro. Arrivederci.